Ci sarà anche il piano verde nel PUC che verrà varato in via definitiva nei prossimi mesi a Ponte Gagnano-Faiano. L'amministrazione ha infatti deciso di aggiungere tale strumento al pacchetto di provvedimenti che andranno a comporre il piano urbanistico nel suo complesso, il cui ITER è cominciato con la precedente giunta SICA e che la maggioranza di centro-sinistra proverà a modificare nei limiti del possibile. Di cui la decisione di approntare un piano del verde per pianificare al meglio la gestione del patrimonio arboreo comunale e di immaginare di allargare la percentuale di aree verdi sul territorio, non propriamente allineata agli standard europei. Ad occuparsi della redazione del piano in questione ci sarà un agronomo che sarà selezionato a seguito della manifestazione di interesse scaduta lo scorso 14 settembre.